Amici di Senza Giacca, vi salutiamo, la volata oggi è a termine, l'abbiamo giocata come se fosse ogni partita l'ultima prima di questa pausa mondiale e la capolista se ne va. Vi faccio sentire oggi questo e vi saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.